Avvenimento controlli intensificati in vista del Ferragosto, la decisione al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto questa mattina al Palazzo del Governo con i vertici delle Forze dell'Ordine, il Prefetto Carlo Torlontano, numerosi gli eventi e le iniziative previste nei prossimi giorni nel Sagno, di cui la decisione di aumentare i controlli su tutto il territorio. Un'attività di intensificazione di tutte le Forze dell'Ordine del nostro territorio. Sono previste molte iniziative, molte fesse durante il periodo ferragostiano anche nella provincia di Benevento e quindi giustamente si è fatta una riunione affinché si potessero approfondire tutte le potenziali criticità anche sulla scorta e alla luce degli anni passati e soprattutto per garantire la massima sicurezza del territorio. La riunione si è svolta prevalentemente per garantire questo tipo di sicurezza per il territorio. Dalla città capoluogo ai comuni della provincia sannita, infatti, con il ritorno degli eventi estivi dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, si prevede un aumento significativo degli arrivi anche dalle altre province della Campania. Ci sarà certamente un incremento importante, ci saranno molte iniziative che certamente precetteranno e attireranno persone anche di fuori provincia. Il Comitato oggi per l'Ordine della Sicurezza va proprio nella direzione di garantire, di preservare e tutelare il territorio rispetto a questo incremento di persone.